Ciao grandi e piccini, la vostra data è tornata. Insieme oggi cosa impareremo nella lingua tedesca? Le emozioni, dei gefili. Come state oggi? Wie geht es euch heute? Mir geht es sehr gut. Io so molto bene, io sono molto felice, ich bin sehr glücklich. Perché? Voi mi avete reso felice iscrivendovi al mio canale. E per chi ancora non l'ha fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, iscrivetevi alla mia pagina Facebook, dove troverete qui sopra il link. Guardate un po' cosa hanno creato i miei nipoti per aiutarvi. Gli smiley, con le loro faccine impareremo le emozioni. Di che fühle? Cosa avete bisogno per crearlo? Allora, un foglio di carta? Che colore è questo? Oh! Un foglio di carta? Gelb! Weiss! Passate così anche i colori. Dovete prendere un coperchio oppure un sottobicchiere, creare i cerchi, ritagliarli, poi incollare tutti, vi ricordate, Dirt Club, di cere, poi create il vostro personaggio. troverete tutte le indicazioni per creare questo lavoretto sulla mia pagina Facebook. e poi c'è una pagina Facebook. E' un po' a qui con il nostro lavoro. E' un po' a qui con il nostro lavoro. E' un po' a qui con il nostro lavoro. sono benveni, occhia coriccino, ich bin verliebt, sono innamorata, sono innamorato, verliebt, voi ne chiede innamorati, io le mi nipotene, ich bin verliebt, voi, la sera, siamo un po' stanke, ich bin müde, sono stanco, müde, ich bin nervös, nervös, sono nervoso, e certe volte siamo wütend, ich bin wütend, sono arrabbiato, sono arrabbiata, ma tu Smani non ti arrabbiare, perché insieme a questi fantastici bambini, grandi piccini, ripassiamo tutto, ich bin traurig, quindi traurig, che vuol dire traurig bambini? Non sento, traurig, triste, erschrocken, glücklich, verliebt, müde, nervös und wütend, quindi bambini, create questo bellissimo lavoretto per imparare le emozioni, divertitevi, così la mattina vi alzate e dite, come mi sento oggi? E nella lingua tedesca dite, sono felice, ich bin glücklich. Iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace, vi aspetto sulla mia pagina Facebook, vi aspetto per il prossimo video, ci sarà una sorpresa bellissima, vi mando un bacio dal cuore, la vostra Tata Deutsch, bis bald!